E' accaduto intorno alle ore 18, i vigili del fuoco sono intervenuti a Cosenza dove una donna ha tentato il suicidio lanciandosi dal ponte di San Francesco sul fiume Crati. Dopo essere caduta in acqua è rimasta viva ed ha iniziato a chiedere insistentemente aiuto. Il livello basso del fiume Crati ha permesso ad alcuni poliziotti e al personale del 118 di raggiungere la donna tirandola fuori dall'acqua. Sul posto sono intervenuti i nuclei fluviali dei vigili del fuoco che formando una catena umana hanno portato insieme agli altri soccorritori la signora da una sponda all'altra del fiume, avviandola poi al locale pronto soccorso per le cure del caso. Grazie